Le tre ore di adorazione che vi ho chiesto come segno forte della nostra scuola di preghiera potreste forse collocarle così la prima ora di adorazione dalle 10.30 alle 11.30 poi potreste anche fare una mezz'ora di intervallo per chi sente pesante poi potreste riprendere per esempio dalle 12 alle 13 includendo in quell'ora lì, includendo anche sesta invece la sera, penso che possiamo farlo dalle 17 alle 18 poi una mezz'ora di intervallo raccomando gli intervalli perché per la preghiera di silenzio occorre avere una certa misura quando si è all'inizio quando si è ben avviati si può anche fare tanto tempo di seguito però quando si è all'inizio, soprattutto quando si è per così dire un po' ammassati è un ambiente direi così creato all'improvviso per la preghiera di silenzio ci sono delle difficoltà anche notevoli allora io raccomando di forse utile non eccedere quando è possibile fare degli intervalli per riempire i tempi liberi con il rosario biblico voi lo sapete questo piccolo libretto è un po' la rivoluzione che abbiamo cercato di fare con i giovani per sanare il rosario voi sapete che il rosario è la preghiera più disgraziata mica per niente la Madonna in tutte le apparizioni torna lì perché sembra che il popolo cristiano lo ami tanto il rosario ma lo malmena anche tanto è la preghiera più malmenata il rosario e allora partendo da un'osservazione acuta che aveva fatto Paolo VI nell'enciclica Marialis Cultus abbiamo tentato la rivoluzione del rosario l'osservazione che aveva fatto il Papa era questa se il rosario non diventa preghiera contemplativa è un corpo senza anima il che significa è un cadavere e di questi rosari cadavere è tutta piena l'usanza cristiana le nostre chiese quando sgranano i rosari sgranano rosari cadaveri come dice il Papa e allora il rosario biblico è partire all'attacco cioè ogni Ave Maria accompagnata da una parola di Sacra Scrittura così sei proprio obbligato a calarti nel mistero quasi per forza ecco allora per favore provate a utilizzarlo in questo deserto e vedrete che vi piacerà molto il rosario biblico bene allora adesso facciamo la risposta alla buona e i quesiti i quesiti erano troppi avevo dovuto sceglierne soltanto 15 ma saranno stati 40 e allora abbiate pazienza il motivo è che qualche argomento lo svilupperò più tardi qualche argomento l'ho abbinato e sono tutti quesiti belli tanti sono molto belli intelligenti c'è stato solo un quesito provocatorio ma io non rispondo alle provocazioni risponderà lo Spirito Santo l'ultimo giorno allora cominciamo i nostri ragazzi leggono loro e io tento di dare la risposta avanti Valentina è stato detto che la preghiera comincia quando ci si converte altrimenti si è dei gusci vuoti io per certe situazioni in cui mi trovo fatico sarei più sincero nel dire non mi decido a convertirmi e allora lascio la preghiera o continuo a pregare per modo di dire no, non continuare a pregare per modo di dire devi proprio tornare lì è un tema che svilupperemo spero molto questo che la preghiera sta nella conversione io godo a vedere certi momenti di preghiera comunitaria però devo sempre dirmi questo non è ancora la preghiera è solo l'introduzione alla preghiera è solo la provocazione alla preghiera la preghiera comincerà l'istante in cui tu ti metti e ami il Signore ma lo ami proprio e per amare il Signore non c'è che una via la tua conversione è per questo che è molto molto importante è molto molto importante il silenzio tu devi avere il coraggio di calare nel profondo di te stesso e dirti la verità e smascherare tutte le tue falsità in quell'istante lì è il primo passo della conversione poi bisognerà che tu ti abbandoni ben Dio per questo hai proprio bisogno della preghiera del cuore la preghiera che ti obbliga ad un confronto profondo ma voglio dire a tutti quelli a tutti gli scoraggiati ricordatevi che il Signore vuole più di voi la vostra conversione il Signore collabora per la vostra conversione più di quello che voi vi immaginate se siete arrivati qui è perché il Signore vuole la vostra conversione e vi offre la grazia della conversione e non avete da fare altro che rispondere e se siete costanti nella preghiera avrete la forza perché il Signore vi metterà sulla pista la conversione in gran parte è frutto di di pista giusta parti giusto col piedi giusto poi vedrai che una cosa dopo l'altra oggi mi ha colpito tanto nelle riflessioni che faccio sulla dottrina di Madre Speranza Madre Speranza che dice queste cose bellissime dice se il Signore non mi avesse preso con le caramelle non sarei arrivata a darle tutto quello che vi ho dato vedete che bello il Signore è proprio così per la nostra conversione comincia con le caramelle però bisogna abbandonarsi a Lui bisogna lasciarlo fare bisogna lasciarlo entrare e bisogna mettersi in clima di captare cioè il silenzio è il clima di amore la tua buona volontà se non ti metti in questo clima Lui è impedito avanti Padre il corpo disturba la mia preghiera le ginocchia mi fanno male come gestire il corpo? Sì ringrazio di questo quesito perché era molto importante il corpo o aiuta la preghiera o la contrasta o lo fate un alleato che aiuta la vostra preghiera o Lui si fa nemico della vostra preghiera è quasi sempre così guardate che quando voi state pregando male è perché non avete risolto questo problema avete dimenticato sovente il vostro corpo quando vi mettete in preghiera il vostro corpo deve entrare in preghiera con voi ed è bello che il Signore ha suscitato il rinnovamento dello spirito per fare sottolineare l'importanza del corpo nella preghiera ma dovete ricordarvene ancora di più quando vi tuffate nell'esercizio della preghiera di silenzio perché la preghiera di silenzio ha anche bisogno del corpo e allora ecco cosa vorrei suggerirvi cercate una posizione del corpo in cui potete dire ecco il mio corpo prega con me se voi siete lì sulla poltrona e vi adagiate come dei pascià siete sicuri che il corpo non prega il corpo vi ostacola la preghiera a un certo momento vedete che non funziona la preghiera perché il vostro corpo vi contrasta anche da seduti voi potete avere una posizione che aiuta la preghiera c'è la preghiera da seduto in cui il corpo può proprio pregare bisogna solo che non sia accontentato in tutto il corpo così per esempio noi consigliamo molto con i giovani certe posizioni che aiutano profondamente la preghiera i giovani in genere sono attratti dalla posizione yoga ma la posizione yoga è molto pericolosa perché la posizione yoga può montare la testa e far credere che lo yoga sia preghiera no lo yoga non è preghiera lo yoga è esercizio preparatorio alla preghiera ma non è affatto preghiera e allora per esempio noi suggeriamo come posizione ottimale questa sta perfettamente in ginocchio le spalle ben aperte che consentano una respirazione regolare ampia perché questa respirazione regolare ampia manda molto ossigeno al tuo cervello e questo facilita la tua concentrazione però tutto il resto del corpo deve essere rilassato mentre stai in ginocchio le braccia rilassate lungo il corpo è tutto rilassato devi essere guarda che persino i muscoli facciali non sono rilassati sovente quando preghi tu sei un po' arcigno questo ostacola la preghiera sii rilassato calmo semplice nella preghiera troviamo come posizione ottimale l'essere in ginocchio in modo perfetto notate bene noi non lo diciamo ma questa è una posizione yoga sì perché le posizioni yoga della preghiera sono quelle a gambe incorciate e a posizione perfettamente retta con le braccia stese lungo il busto noi aggiungiamo mettiti in ginocchio è come se fossi non glielo diciamo che questa è posizione yoga la posizione yoga tira l'occhio soddisfa e alla fine diventa fare un po' di cine e invece lo stare in ginocchio perfettamente ginocchiato il corpo rilassato gli occhi chiusi possibilmente chiusi o fissi sull'eucarestia questa troviamo è la posizione ottimale del corpo che aiuta di più la preghiera però dovete anche imparare a pregare da seduti perché in un certo momento il corpo ha bisogno di distensione allora va anche bene il pregare da seduti ve l'ho detto per esempio l'ultimo quarto d'ora fatelo così da seduti godendo il signore desidero stare col signore ma in realtà ma in realtà non riesco o non voglio starci sento però che il signore vuole che resti con lui e ne ho bisogno per sentirmi suo sacerdote ho fatto il sacerdote per lui e poi faccio solo delle cose per i suoi figli mi manca il contatto con le anime non riusciamo con i catechisti e gli operatori a dare il senso della fede in Dio e lo perdiamo un po' anche noi anche se alla sua presenza mi pare di vivere sempre ci sono tante cose in questo biglietto ma io vorrei solo dire una cosa a me sembra che tutti i problemi pastorali siano concentrati lì portare la gente a Dio non trovo un'altra pastorale che quella lì portare la gente a Dio ora come fate a portare la gente a Dio se non siete gente che prega a me sembra che la pastorale dovrebbe correre per queste direttive preghiera insegnare a pregare a tutte le persone noi insegniamo a pregare ai carcerati agli zingare negli islam a gente lontanissima da Dio a tutti tutti devono pregare se non si arriva a pregare non si arriva a Dio se non insegna a pregare tu defraudi la tua gente è una frode che fai perché se non arrivano alla preghiera come arrivano a Dio ma tu che sei lo strumento devi essere un uomo di preghiera se no non sei capace a pregare non si insegna mica la lavagna a pregare si insegna mica dando delle nozioni a pregare insegni soprattutto con la tua vita se sei uomo di preghiera insegna a pregare stai tranquillo per dritto per traverso porti la gente alla preghiera ma se non sei persona di preghiera anche se fossi sapiente come il più sapiente dei teologi tu non porti la gente alla preghiera la prima direttiva portare alla preghiera è tutti è ciascuno e non scartare nessuno è guai se dico questo non puoi imparare se dico questo non puoi imparare è segno che quello è il primo a cui devi insegnare poi la parola di Dio se non date la parola di Dio cosa date cosa date cosa date poi a me pare la formazione alla carità se voi non lanciate la gente verso i poveri voi li avete fatti i cristiani se i vostri cristiani sono tanto borghesi voi li avete costruiti i cristiani se voi non sapete togliervi il pane di bocca per i poveri voi siete uomini di carità uomini che sanno parlare dei poveri sanno andare i poveri sanno amare i poveri a me sembra che le tre grandi direttive della pastorale sono quelle lì e tutte e tre hanno bisogno di preghiera voi non riuscirete mai ad andare a fondo nella nell'assimilare la parola se voi non siete persone di preghiera e voi non riuscirete mai ad avere volontà continua di andare ai poveri di aprirvi agli altri di darvi agli altri se non siete gente resistente alla preghiera la preghiera è la partenza e dovete studiarle tutte per diventare uomini di preghiera e ricordatevi tutto comincia da aver ricevuto il fascino della preghiera come diceva il venerabile Ollier ai parroci di Parigi quando voleva rinnovare il clero di Francia dopo la rivoluzione francese avanti partite con la preghiera ma prima di tutto chiedete il fascino della preghiera il bisogno della preghiera e chi non lo sente deve chiederlo finché l'ha ottenuto il Signore glielo vuole dare più di quello che Lui lo desidera ma chiedete il fascino della preghiera il bisogno della preghiera se non l'avete siete dei poveri preti sbandati anche se siete colti la vostra cultura vi serve poco anche se avete una bella parlantina la vostra parlantina non converte le persone anche anche se siete capaci di analizzare di di organizzare di fare la vostra organizzazione si insabbia presto se voi non siete uomini di preghiera perché è solo l'uomo di preghiera che porta a Dio ecco voglio dire questo questo prete quando mi metto davanti al Signore mi sento incapace di meditare preghiere vocali sarà che sono pigro la preghiera vocale mi è un problema anche a me anche a me è un problema la preghiera vocale anzi vorrei dirvi una cosa più avanzerete nella preghiera di silenzio più vi peserà la preghiera vocale ma sarà una grazia sarà una grazia perché quando voi avanzerete molto nella preghiera di silenzio poi non sprecate più tanto preghiere vocali invece se non abbiamo la formazione o la preghiera facciamo un massacro di preghiere vocali provate a pensare a certi rosari dicevamo poco fa provate a pensare al breviario come lo diciamo sovente provate a pensare al modo garibaldino con cui certi preti fanno la messa l'assassinio della preghiera attraverso la preghiera vocale e bisogna proprio fare una rivoluzione e penso che la rivoluzione sia incamminarsi nella preghiera di silenzio in grande stile e insegnarla in grande stile la preghiera di silenzio per formare l'osso alla preghiera quando siamo fortemente preoccupati o assaliti da distrazioni e lo stare in preghiera sembra perdere tempo come svegliare il cuore colorire la fantasia di immagini e pensieri ottimisti come mai la preghiera spesso è tanto sofferta vi leggerò una pagina di un autore americano molto intelligente il trappista padre Pennington adesso non ce l'ho sotto l'occhio ma spero domani di leggervela che dice così il signore poteva farci in un'altra maniera poteva mettere dentro di noi un interruttore che fermava la fantasia un altro interruttore che fermava i sentimenti che sbandavano un altro interruttore che fermava le altre dissipazioni che abbiamo e noi mossi gli interruttori ecco potevamo pregare tranquilli invece il signore non ha creduto bene di farci così ha creduto bene che dentro di noi ci siano mille battaglie quando preghiamo c'è la battaglia della disciplina dei pensieri c'è la disciplina degli occhi c'è la disciplina del fisico c'è la disciplina della memoria la memoria come vi porta via le preoccupazioni sono in discipline di memoria che abbiamo tutti i momenti noi siamo per così dire aggrediti da qualche nemico nella preghiera il signore ci ha voluti così e noi dobbiamo sopportarci così e dobbiamo convivere con quei limiti lì cioè dobbiamo prendere tutti questi condizionamenti e girarli per la preghiera e a forza di disciplina si arriva a un certo silenzio interiore che consente una certa preghiera calma però la preghiera tranquilla pacifica l'avremo solo in paradiso non c'è niente da fare qui avremo sempre da lottare quando preghiamo però c'è molta differenza tra la persona abituata alla preghiera di silenzio e la persona che non è tanto abituata vorrei anche però fare un'osservazione ricordatevi però bene che la preghiera è sempre lo specchio della vostra vita se la vostra vita è mondana voi non siete capaci di preghiera se la vostra vita è piena di vanità voi non siete capaci di preghiera se la vostra vita è sensualità voi non siete capaci di preghiera quando si è impantanati nel fango non si è capaci di preghiera almeno di preghiera prolungata si può fare qualche altra preghiera si può gridare al Signore quando si è impantanati la preghiera è sempre lo specchio della vostra vita se la vostra giornata è tutta dissipazione di sicuro la vostra preghiera è tutta dissipazione ma se la vostra giornata comincia a essere disciplinata ordinata bella piena di carità piena di donazione piena di altruismo allora ecco a poco a poco voi vi accorgete che la vostra preghiera diventa più facile la vostra preghiera cammina bene la vostra preghiera è sempre il riflesso della vostra vita quindi quando vedete che è tanto difficile la preghiera per favore analizzatevi bene se per caso a monte non ci sono delle cause più gravi che le solite cioè la difficoltà di concentrarci la difficoltà di disciplinare il pensiero la nostra sensibilità perché se ci sono disordini gravi alle spalle bisogna cominciare dai disordini gravi se volete avere un aiuto per la preghiera penso di non aver avuto nell'adorazione di stamani grosse difficoltà tutte le volte che mi metto seriamente di fronte a lui non ho difficoltà forse proprio questa è la mia difficoltà reputare il mio stare con lui una cosa così semplice è un dono che mi è stato fatto tanto da pensare di poterla sempre recuperare rinviare tanto non lo perdo è come se dicessi a me stesso quanto orgoglio scelgo spesso di parlare con gli altri confessioni direzioni spirituali e poco con lui mi aiuti io penso che un prete che si rispetta deve avere dello spazio solo per il Signore allora avrà molto spazio per il prossimo e soprattutto per il prossimo che pesa per il prossimo che pesa ma un prete che si rispetta dovrebbe avere almeno due o tre ore di preghiera al giorno mi ha molto colpito una battuta del Cardinal Balestrero una volta era da noi e discorravamo e mi ha detto così quando sono stato ordinato prete aveva un parroco santo uomo proprio di Dio che il giorno della prima messa mi disse queste parole ricordati bene che un prete rispettabile deve pregare almeno cinque ore al giorno se no non fa niente di serio nella sua vita da prete il Cardinal Balestrero si grattò la testa e disse cinque ore al giorno ma è possibile cinque ore al giorno per poter essere un prete valido cinque ore al giorno e allora mi disse guarda poi sono diventato superiore dei carmelitani poi sono diventato il generale dei carmelitani poi mi hanno fatto vescovo di Bari poi mi hanno fatto arcivescovo di Torino e poi mi hanno fatto cardinale di Santa Romana Chiesa adesso giunto al 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 cardinalato adesso dopo tutte queste tappe dico che il mio vecchio parroco di Campania aveva ragione un prete che non prega cinque ore al giorno non fa niente di valido io cardinale adesso l'ho capito è forte ma se voi pensate che se le apparizioni di Međugorje sono autentiche che la Madonna laggiù insiste coi giovani di pregare tre ore al giorno voi capite subito che quel parroco del cardinal Balestreno camminava bene comunque non dovete avere paura del tempo che spendete nella preghiera e il tempo che spendete nella preghiera lo trovate sempre lo trovate sempre e il guaio è quando non sentite il bisogno questo è tremendo perché è come il malato che non mangia più e il malato che non mangia più è finito è come il malato che rifiuta la medicina il malato che rifiuta le cure e le medicine è finita non sentire il bisogno della preghiera questo è tremendo ma non abbiate paura di pregare tante ore tante ore non rubate niente vedrete che date molto di più solo dovete imparare a utilizzare bene quelle ore di preghiera che non sia non sia non siano male spese perché succede anche che noi ci gingiliamo nella preghiera giochiamo giochereliamo nella preghiera non so il tempo di preghiera passato leggendo un bel libro non è mica preghiera quella e io la chiamo meditazione ah ma dove è andata la meditazione il fare un bel corso di esercizi leggendo un bel libro interessante ho sempre pregato ma dove hai pregato hai letto leggere non è pregare vorrei persino dire nemmeno meditare non ancora pregare pregare quando ti metti solo davanti a Dio e che Lui ti possa schiaffeggiare liberamente quello è pregare ma per arrivare lì ne devi farvi cammino di meditazione inoltre di tiri spirituali per sacerdoti c'è sempre l'adorazione al Santissimo Sacramento ma a volte è resa monotona ripetitiva senza tanto colore sarà per la preghiera preconfezionata dei libretti sarà per il nostro poco amore un consiglio per rendere renderci promotori di una preghiera più preghiera cominciare tu che ognuno diventi specialista della preghiera autentica che ognuno impari a cominciare da questo deserto a smascherare la propria preghiera a imparare a valutare questo è preghiera questo non è ancora preghiera e oggi avete già la preghiera di oggi da esaminare cosa c'è di vera preghiera ricordatevi bene che noi preghiamo solo a sprazie anche quando riusciamo a stare un'ora davanti al Signore ma bisogna avere il coraggio di vederlo il coraggio di capirlo io credo che i problemi preghieri preghiera cominciano solo da noi cominciano tutti da noi se tu preti diventi uomo di preghiera tu riesci a insegnare la preghiera ma devi cominciare tu avanti sono venuto qui per trovare la via del mio cuore in un momento critico in cui per propria incoscienza la quale durava da anni momento critico in cui la stessa vocazione stenta ad affermarsi e risente di tutti i colpi duri inflitti lungo gli anni come si può entrare in quel silenzio interiore quando lo spirito ha bisogno di gridare aiuto al Signore per tutte le preoccupazioni le distrazioni e situazioni varie in cui mi agito qual è la via per questa quiete interiore che mi può condurre a Gesù ma a me sembra che devi aver pazienza e cominciare a gridare al Signore nella tua situazione e non stancarti di dar tanto tempo a stare col Signore e anche se trovi arido lo stare davanti al Signore resistere davanti al Signore e arriverà il momento in cui il Signore risponde in cui il Signore ti mette un po' di luce in cui il Signore fa sentire la sua presenza in modo efficace ti fa sentire i problemi e ti tira fuori nell'ultimo quarto d'ora sono salito nel sonno mi sono ritrovato come gli apostoli nell'orto degli olivi ancora aridità cuore ingombro di progetti miei ho scoperto quanto sia vero che il mio rapporto con Dio è burocratico freddo la mia vita è una maschera di perbenismo ed ipocrisia cioè di facciata ho 67 anni ce la farò sì ce la farai certamente ecco quando la conversione comincia sempre dalla sincerità quest'uomo è sincero se è sincero è già a posto ha già fatto il primo passo verso il Signore lo Spirito è verità l'istante che diventiamo verità entriamo in profondità nello Spirito c'è già tutto da sperare il problema è quando non vedi i problemi quando conti storie a te stesso e fai persino finta di crederci e sotto sotto capisci che sono storie ma l'istante in cui dite pane al pane l'istante in cui siete assolutamente schietti lì è il momento dell'incontro col Signore bisogna avere molta fiducia anche a 80 anni si può dire adesso comincio e San Vincenzo dei Paoli non lo disse fino all'ultimo giorno della morte oggi comincio a farmi santo ce n'hai ancora? 1, 2, 3 va bene come fare a salvare il tempo dell'adorazione da impegni molteplici non cercati o da persone che richiedono colloqui direzione spirituale eccetera per motivo ah per motivi che appaiono urgenti a me sembra che una delle prime cose che imparerete entrando profondamente nella preghiera sarà questa di gestire il vostro tempo di diventare sinceri tanto da capire sto perdendo tempo e quindi e quindi mi fermo questa faccenda la posso collocare in un altro momento questa persona me la devo sbrigare anche un poco e a quest'altra invece devo dare tanto spazio perché ha proprio bisogno voi acquisterete una finezza particolare nel gestire il tempo progredendo nella preghiera e il primo uno dei primi frutti della preghiera secondo me è questo il primo è svegliarmi nella carità vedere i miei grovigli nella carità il secondo quasi sempre è questo vedere che perdo tanto tempo che avrei tanto tempo da dare al Signore e da dare alle cose valide e ne perdo un mucchio e allora imparo a gestirlo il tempo imparo a utilizzare certi ritagli per certe cose e imparo anche a sbrigarmela con certe faccende che non finiscono più quando certi colloqui di direzione spirituale perdurano per delle ore questo si capisce che sotto c'è qualcosa che non funziona per una direzione spirituale bastano anche dieci minuti quando hai detto cosa il Signore ti suggerisce di dire e tu capisci quando stai menando il camperlaia e quando invece e quando invece non finisci e quando invece devi andare all'essenziale perché diventi schietto la preghiera ti smaschera queste falsità e ti aiuta a gestire meglio il tuo tempo e quindi acquisti molto spazio in più per il Signore difficoltà di concentrazione mille pensieri si raffollano nella mente soprattutto quelli attinenti all'attività al lavoro alla preoccupazione di non dimenticare la tal cosa o la tal altra frutto dell'ansietà del mondo sento una mancata educazione alla preghiera ritenuta e presentata come dovere sì è vero dobbiamo proprio rieducarci alla preghiera e uno dei passaggi da fare è questo la preghiera non è un dovere ma è un tuo bisogno secondo la preghiera è la più grande gioia della tua giornata è il più grande premio che ti dà il Signore nella giornata ecco devi arrivare lì quando arrivi lì allora sei alla preghiera liberante alla preghiera che ti riposa alla preghiera che ti compensa alla preghiera che ti dà tutto e l'ultimo questo ce ne sono altri due sì premetto che sono ignorante voglio imparare a pregare perciò le chiedo di dire in concreto in che è consistita la sua preghiera di questa mattina nel colloquio con lo Spirito Santo con Gesù con il Padre sono impertinente e indiscreto ma per imparare ho bisogno di concretezza e non di luoghi comuni ho bisogno di sapere se è un incontro con Dio per un confronto della sua parola con la mia vita ecco io per consolare questo questo sacerdote dico che la mia preghiera oggi è stata molto faticosa ho faticato molto a concentrarmi io spero che domani sarà più facile perché quando cambio ambiente ho molta difficoltà a concentrarmi ma il concentrarmi per esempio nella presenza dello Spirito Santo in me quasi sempre è legato a questo pensiero riuscire a trovare una parola di sincerità allo Spirito Santo in me per esempio a me commuove questo pensiero Spirito Santo ti chiedo perdono che ti rendo così difficile la vita ti chiedo perdono di tutta l'amarezza che ti do ti chiedo perdono che ti deludo continuamente ti chiedo perdono che ti faccio perdere la pazienza e qualche volta quel chiedere perdono è proprio sincero mi sembra che sia proprio sincero il ringrescimento dei dispiaceri che do allo Spirito Santo e poi mi rifugio su queste parole insegnami ad amare insegnami a pregare ecco e faccio tutto il tempo di silenzio e cose insegnami a pregare insegnami ad amare e qualche volta mi accorgo che mentre sto dicendo insegnami a pregare insegnami ad amare sto slittando nella preghiera vocale e perdo e perdo la sua presenza allora taccio e dico solo più Spirito Santo Spirito Santo ma dico questo confratello che anche per me la preghiera è una lotta e io non mi meraviglio e voglio lottare e lottando ho anche i frutti della preghiera e i frutti della preghiera notatelo subito che sono abbondanti voi vi accorgerete che certe volte avete forza per delle cose in cui non avevate mai forza avete pregato sono i frutti della preghiera avete pazienza quando eravate tanto impazienti avete certe intuizioni vedete certe cose che sono i frutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.